Nel 1985 un gruppo di escursionisti stava camminando in un percorso tra i boschi a nord di Los Angeles quando uno di loro guardò tra gli alberi e notò un ruscello proprio lì vicino che scorreva parallelo al percorso in cui si trovavano. Guardando meglio però, scorse qualcosa di piuttosto strano nell'acqua. Per cui si avvicinarono tutti a questo ruscello per capire cosa fosse ma una volta arrivati lì, davanti a questa strana cosa che spuntava fuori dall'acqua rimasero fermi, pietrificati e increduli. Gli investigatori ci avrebbero messo tre anni per capire cosa avevano davvero davanti. Ragazzi buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E la vicenda di cui voglio parlarvi oggi è talmente assurda che vi farà riflettere molto sulle persone che chiamate amiche. Non si sente molto parlare di questa storia e sinceramente è un peccato perché secondo me può insegnarci molto. Almeno a me ha insegnato di non fidarmi al 100% di nessuno, nemmeno delle persone che conosco da una vita intera. Prima di addentrarci nelle giovani vite delle protagoniste però, voglio ricordarvi che su Pampling, trovate il link in descrizione, trovate le magliette che indosso nei video come questa qua, bellissima. In qualche modo è anche collegata al caso di oggi, vabbè. O anche questa, che adoro, o questa. Insomma fate un giro sul sito e vedete se c'è qualcosa che vi piace, hanno veramente di tutto. Se decidete poi di prendere qualcosa ricordate di inserire il codice Andrew al checkout, così Pampling vi regalerà un paio di calze a vostra scelta in omaggio. Detto tutto questo cominciamo con i file di oggi. Siamo nel 1985 e Michelle Yvette Avila, chiamata da tutti i missi, vive ad Arleta, una piccola area della città di Los Angeles. È nata all'8 febbraio 1968 e, al momento dei fatti, nell'85, ha 17 anni. Ed è una normalissima studentessa del liceo. Nonostante sia piccola e minuta, è molto popolare nella sua scuola, perché è molto sicura di sé, è carismatica, gentile, disponibile e anche una bella ragazza. Sono tanti i ragazzi che le vanno dietro e altrettante le ragazze che vogliono comunque conoscerla, essere sue amiche. E questo nonostante una brutta vicenda avvenuta l'anno prima. Quell'anno aveva cominciato a circolare la voce secondo cui Missy sarebbe andata a letto con vari ragazzi della scuola, tutti fidanzati. Questa voce si era sparsa e diffusa a macchia d'olio, tanto da diventare conosciuta da tutti. Tutti a scuola sapevano o avevano sentito dire che Missy era una poco di buono e che apposta cercava solo ragazzi già fidanzati come per fare un dispetto alle altre ragazze. Tuttavia queste non erano altro che voci. Missy non aveva mai fatto nulla di simile. Ma le persone, specialmente a quell'età, spesso sono irragionevoli. Quindi, senza neanche una prova che accertasse queste dicerie, un giorno alcune ragazze accerchiarono Missy e cominciarono a picchiarla, facendole decisamente male. Fu un'aggressione assolutamente non necessaria, ma per fortuna i genitori della ragazza, lo stesso giorno in cui lei tornò in casa, dopo averle prese così, denunciarono subito le bulle, in particolare quella che si pensava avesse guidato e organizzato il pestaggio. Una certa Sonia Bonn. La questione legale tra le due sarebbe andata avanti per mesi e mesi, tempo in cui le persone hanno avuto modo di capire che Missy era stata attaccata ingiustamente, che quelle voci erano false, messe in giro da qualcuno che per qualche motivo la odiava profondamente. Torniamo così al 1985, più precisamente al primo ottobre di quell'anno. Missy frequentava il terzo anno di liceo e nonostante le preoccupazioni per la questione del tribunale, in cui sarebbe dovuta andare a testimoniare la settimana dopo, è comunque circondata da famiglia e amici che le vogliono bene e la supportano. Il primo ottobre appunto Missy torna a casa da scuola e dice a sua madre, una donna di nome Irene, che quel pomeriggio sarebbe uscita con degli amici. Niente di strano, ma sua madre le dice di tornare non oltre le 18. Missy quindi accetta e pochi minuti dopo una macchina si ferma sotto casa sua e suona il clacson. È un'amica di Missy, una certa Laura Doyle, anche lei di 17 anni, ed è venuta a prenderla per uscire insieme. Missy allora saluta sua madre, esce di casa, salta in macchina e le due partono senza problemi. Tutto normale, per ora. Arrivano però le 18, orario del coprifuoco, e Missy non è ancora tornata a casa. Sua madre Irene non si preoccupa così tanto, perché non era raro che sua figlia ritardasse, ma una volta tornata a casa solitamente si faceva perdonare, chiedeva scusa o comunque avvisava del ritardo, sempre. Irene sa che sua figlia è una brava ragazza e che non le darebbe mai dei problemi in quel senso. Oltre a ciò, aveva davvero tanti amici, le piaceva stare in giro con loro, quindi per il momento sua madre Irene non fa nulla. Ma poco dopo le 18, la donna sente squilare il telefono di casa, alza la cornetta, aspettandosi di sentire la voce di sua figlia dall'altra parte. Invece, sente Laura, l'amica che era venuta a prendere Missy quel pomeriggio. Irene le chiede subito che cosa c'è, e Laura le chiede, ma Missy è a casa? La donna stupita le dice, ma come a casa non è con te? Le ho viste uscire insieme, e Laura risponde di no, Missy non era con lei, anzi non sapeva dove fosse. Irene rimane veramente stupita perché le aveva viste uscire insieme e pensava sarebbero tornate insieme. Ma anche Laura sembra confusa e comincia a farsi prendere dal panico. La madre di Missy però, Irene, cercando di capire, la fa calmare. Cerca di calmare Laura e le chiede che cosa sia successo, di spiegarle tutto nel minimo dettaglio perché era davvero una situazione strana. Allora Laura, dopo qualche minuto, riesce a calmarsi e spiega un po' quello che è successo quel pomeriggio. Comincia col dire che lei e Missy erano andate a fare un giro in macchina per la città, cosa che facevano davvero spesso. Si sono recate allo Stonehurst Park, un posto che conoscevano molto bene e dove spesso si incontravano con altri amici. Laura racconta che al momento in cui è entrata nel parcheggio del parco con la macchina, non ha visto nessuna delle macchine dei suoi amici. Quindi ha messo la retromarcia come per andare via e magari aspettare facendo un giro in macchina. Missy però l'ha fermata e le ha detto di riconoscere una delle macchine parcheggiate, una Camaro Blu. Le ha spiegato che quella macchina apparteneva a dei ragazzi che conosceva e che voleva scendere per andare a salutarli perché li ha visti proprio lì vicino alla Camaro Blu. Erano due ragazzi sulla ventina che a quanto pare conoscevano Missy. Laura però non li conosceva, non li aveva mai visti. Missy tuttavia voleva scendere a salutarli, stare un attimo con loro, mentre Laura non ne aveva la minima intenzione non conoscendoli, non voleva approcciarsi. Quindi decise di aspettare la ragazza parcheggiandosi abbastanza a lontano da quella Camaro Blu. Missy poi è scesa, ha iniziato a salutare i ragazzi da lontano, loro a loro volta l'hanno salutata da lontano e quindi Laura ha capito che effettivamente si conoscevano. E questa non era neanche una situazione così inusuale perché Missy, come già vi ho detto, era molto popolare, conosceva tante persone. E non era raro quindi che si fermasse a salutare qualcuno che le sue amiche e le persone con cui era non conoscevano. Tuttavia, mentre Laura si stava sistemando nel parcheggio per aspettare la sua amica, ha notato che la spia della sua macchina, la spia della benzina, era accesa e segnava che il carburante era quasi finito. Allora per non restare totalmente a secco, ha avvisato Missy da lontano dicendole che sarebbe andata a fare benzina e che sarebbe tornata subito. Missy le ha poi fatto un cenno con la mano per dirle che era tutto ok, che andava bene e Laura se n'è andata. Pochi minuti dopo, dopo aver fatto rifornimento, è tornata nel parcheggio ma non ha trovato né Missy né i due ragazzi con la loro camaro blu. Sentendo queste parole al telefono, la madre di Missy si preoccupa da morire. Laura però le spiega che in quel momento non si era preoccupata perché, come vi ho detto, ha visto che Missy conosceva quei ragazzi. Ma nonostante tutto, dice a Irene che è andata comunque a prelustrare la zona dopo essersi accorta che in quel parcheggio non c'era più Missy. Ha fatto un giro in macchina in tutto il vicinato per vedere se vedesse la camaro blu, quei ragazzi, Missy, ma non ha visto nessuno e quindi semplicemente è tornata a casa. E poi, alle 18 circa, per sapere se Missy fosse tornata a casa, ha chiamato Irene. In questo momento, Irene veramente si preoccupa perché non era una cosa normale. Missy era da qualche parte con dei ragazzi sconosciuti e non era ancora tornata. È davvero strano perché non aveva nemmeno avvisato sua madre del ritardo, cosa che faceva sempre. Tuttavia, Laura e Irene decidono di non chiamare subito la polizia perché speravano che la situazione si fosse risolta, speravano che Missy sarebbe tornata a casa di lì a poco. Per cui, dopo essersi confrontate al telefono, decidono di chiamare tutte le persone che avrebbero potuto sapere qualcosa. Conoscenti, amici, parenti di Missy, tutti. Purtroppo però nessuno di loro ha notizie della ragazza. Nessuno sa dove sia. Quella sera quindi, sul tardi, Laura e Irene si incontrano e decidono di andare a bussare di porta in porta in tutto il vicinato per chiedere informazioni su Missy. Ma dopo questo giro disperato a chiedere informazioni, non scoprono niente e quindi decidono semplicemente di tornare ognuno a casa propria e far passare la notte, sempre sperando che Missy sarebbe tornata. Ma il mattino successivo, ancora nulla. Missy è sparita. Irene allora sconfitta, fa quello che avrebbe forse dovuto fare già da prima. Chiamo la polizia. Irene va alla polizia e racconta tutto ciò che vi ho appena raccontato io agli agenti. E loro, subito, cominciano ad indagare su una principale persona, una sospettata principale. Laura, perché era l'ultima persona ad aver visto Missy. Cominciano a chiederle ogni dettaglio possibile su quel pomeriggio. E come sapete in questi casi non bisogna perdere neanche un minuto, perché ogni secondo anzi che passa, Missy era sempre più in pericolo. Quando scompare qualcuno bisogna agire subito, perché più passa il tempo, più aumentano le probabilità che la situazione finisca male. Comunque gli agenti chiedono molti dettagli a Laura, specialmente sulla Camaro Blu e sull'aspetto di questi ragazzi, che apparentemente erano amici di Missy. La ragazza però è tormentata dai sensi di colpa, perché era l'ultima ad averla vista, si sente veramente sopraffare dalla situazione. È un po' in preda al panico e durante l'interrogatorio è quasi impaurita. Sente un peso addosso indescrivibile, perché non riesce razionalmente a dare più informazioni alla polizia e si sente in colpa. Tuttavia ci prova, prova con tutta se stessa a ricordare, ma quel pomeriggio, quando era andata al parcheggio, lei era troppo lontana dai ragazzi e dalla Camaro Blu per vederli in faccia perfettamente, per riconoscere magari dei connotati particolari. Quindi dà gli agenti delle descrizioni sommarie, però lei stessa ammette che non sono attendibili, perché non può ricordarle, non le ha viste proprio. Quindi diciamo che in quel momento è abbastanza incapace di dare informazioni utili, oltre al fatto che appunto c'erano due ragazzi e una Camaro Blu. Quindi una volta ottenute le informazioni da Laura e Irene, la polizia comincia a cercare in tutta la città di Arleta, setacciando anche le zone circostanti. Nel frattempo, Irene, Laura e altri amici e conoscenti di Missy si mettono a cercarla per conto proprio. Aiutando così le forze dell'ordine, trascorrono ben due giorni in questo modo, ma niente, non riescono a trovarla. Né la polizia, né parenti e amici riescono a trovare tracce, indizi, veramente nulla. Ma al terzo giorno della scomparsa, accade qualcosa. Missy viene ritrovata, o meglio, il suo corpo senza vita viene ritrovato. Ed è in un ruscello, nei boschi a nord di Los Angeles. Per capire però quello che è successo, per ricostruire tutta la dinamica di questo caso, ci vorranno tre anni agli agenti. E riusciranno a capire tutto solo grazie ad un testimone oculare. Quindi adesso, vi racconterò ciò che è accaduto davvero quel primo ottobre 1985. Vi racconterò la testimonianza di questo testimone oculare. La stessa che ha permesso alla polizia di chiudere definitivamente il caso. Torniamo quindi al giorno della sparizione. Il primo ottobre 1985 era un martedì. Missy tornò a casa da scuola. Disse a sua madre che sarebbe andata fuori con gli amici. E Irene le disse di tornare per le 18. Poi arrivò Laura. A bordo della sua auto, le due amiche se ne andarono. Fecero poi quel giro in macchina per la città e andarono veramente allo Stonehurst Park, ovvero il loro luogo di ritrovo abituale in cui si trovavano con gli altri loro amici. Però qui, le cose cominciano ad essere decisamente diverse da come le aveva raccontate Laura a Irene. Perché la ragazza aveva tralasciato dei dettagli veramente fondamentali e anzi, aveva omesso tutta una parte della storia. La parte che coinvolgeva una certa Karen, di cui devo necessariamente parlarvi. Karen era la migliore amica di Missy. Anche lei aveva 17 anni e il suo nome completo era Karen Severson. Conosceva Missy da quando avevano 8 anni e sono sempre state migliori amiche. Le piacevano le stesse cose, erano sempre andate d'accordo. E poi più avanti nel tempo hanno incontrato anche Laura. Quindi Missy, Karen e Laura erano una sorta di trio di migliori amiche, molto legate, inseparabili. Erano veramente affiatate e avevano persino sostenuto Missy quella volta dell'aggressione. Quella volta in cui erano girate le voci secondo cui Missy andava a letto con i ragazzi fidanzati. Ecco, loro due, Laura e Karen, le erano state davvero vicine. Avevano preso le sue difese. O almeno questo fino a un mese prima della sua scomparsa. Nel settembre dell'85, infatti, un nuovo pettegolezzo aveva cominciato a girare per la San Ferdinando High School. Questo nuovo pettegolezzo, ovviamente, era sempre su Missy e diceva che era andata a letto con i ragazzi di Karen e Laura. Quindi aveva cominciato a girare questa voce veramente terribile. Ma Karen e Laura, le due migliori amiche di Missy, non ci credevano. Sapevano che era già successo, non pensavano neanche minimamente che Missy avrebbe potuto fare qualcosa del genere. Eppure, nonostante tutto, avevano cominciato a nutrire diversi dubbi. Così, un giorno, sempre nel settembre dell'85, decisero di andare da Missy, Karen e Laura. Andarono da Missy e le chiesero se queste voci fossero vere, se davvero fosse andata a letto con i loro fidanzati. Missy però non la prese molto bene, si indignò, anzi si incazzò veramente. E le rispose che no, come avevano fatto a pensare una cosa del genere, come potevano dubitare di lei. Ci rimane davvero male. Quindi da questa discussione nasce un vero e proprio litigio. Missy non poteva credere che le sue due migliori amiche avessero dubitato di lei in questo modo. Quindi la discussione appunto divenne molto accesa. Ad un certo punto della discussione però Missy fece per andarsene e Karen la rincorse e gli diede uno schiaffo in faccia. Azione, gesto questo, che determinò la fine del loro rapporto. Laura tuttavia aveva scelto di stare comunque vicino a Missy. Le tre quindi da quel momento lì, da settembre dell'85, si erano un po' separate. O meglio Karen si era separata da loro due. Mentre Laura e Missy avevano continuato a vedersi, avevano continuato ad uscire. Tuttavia, il giorno della scomparsa, Karen chiese scusa a Missy. E anzi le chiese di vedersi, tutte e tre, quindi Karen, Missy e Laura, al parcheggio di Stonehurst Park. Quel pomeriggio quindi le due, Laura e Missy, dovevano vedersi con lei, con Karen. Quel pomeriggio, quindi, arrivate al parcheggio, Karen non era ancora arrivata. E tutta quella storia della Camaro Blu e dei due ragazzi, presunti amici di Missy, era falsa. Non c'era mai stata una Camaro Blu, né tantomeno i due ragazzi. Quindi da qui iniziano le vere divergenze tra la versione di Laura e la versione del testimone oculare. Cominciamo adesso a entrare nel vivo di questa faccenda. Laura e Missy erano al parcheggio che aspettavano Karen. Karen effettivamente arriva poco dopo e appena arriva, appena raggiunge le amiche, comincia una litigata pazzesca. Praticamente, Karen era arrivata in macchina insieme ad un'altra ragazza di nome Eva Cirumbolo. Cirumbolo, non so come si pronunci. Che sarebbe poi la stessa ragazza che ha dato questa testimonianza e che ha fatto risolvere il caso. Comunque, Karen arriva con la macchina ad una velocità assurda. Si ferma vicino alla macchina di Laura, attaccata alla macchina di Laura, derapando, e comincia ad urlare qualcosa in direzione della macchina di Laura. Immaginate, ci sono queste due macchine vicinissime. In una macchina Karen con Eva al posto del passeggero e nell'altra Laura con Missy al posto del passeggero. Karen urla a Eva, seduta vicino a lei, di abbassare il finestrino e comincia a urlare qualcosa verso la direzione della macchina di Laura. Allora Laura, confusa, abbassa a sua volta il finestrino e le parole che sente sono semplicemente assurde. Karen la stava insultando, ma insulti pesanti, non scenderò nei dettagli. La stava praticamente umiliando, usando parole bruttissime e a quanto pare dal nulla. Laura ovviamente non se ne sta zitta e comincia a risponderle. Le risponde a tono, anche lei arrabbiatissima perché non capiva perché cavolo Karen la stesse insultando così. Intanto immaginate Eva e i Missy, che erano lì nelle rispettive macchine, a non capire niente, confusissime, imbarazzatissime, specialmente Eva che era proprio tra le due. Deve essere stato bruttissimo per loro due. Comunque, dopo un po' di tempo passato così a insultarsi da una macchina all'altra, Karen parte a tutta velocità e comincia a guidare. Laura però, ancora infuriata, parte a sua volta e comincia ad inseguirla. Questo inseguimento, ragazzi, durò 45 minuti. 45 minuti in cui sia Karen che Laura nelle rispettive macchine continuavano a urlare i peggio insulti e le peggio parolacce una contro l'altra, anche se ovviamente non si sentivano. E 45 minuti in cui stavano guidando ad una velocità preoccupante, pericolosa. Infatti, sia Eva che Missy stavano dicendo loro di rallentare, che non valeva la pena fare un incidente per queste cavolate. Però tutto quello che dicevano entrava in un orecchio e usciva dall'altro, perché in realtà le due, Laura e Karen, avevano un motivo ben preciso per cui si stavano comportando così. In questi 45 minuti di inseguimento, le ragazze si erano spostate dalla cittadina, non erano più in centro ad Arleta, ma si erano avvicinate ad una zona boschiva a nord della città. Una volta arrivata in quella zona, Karen decide di fermarsi in uno spiazzo proprio attaccato ad un bosco. Laura, vedendo che si stava fermando, si ferma a sua volta. Anzi, per un pelo non va a sbattere contro la macchina di Karen, per un pelo non fanno un incidente, perché vi ricordo che in tutto ciò stavano correndo veramente tanto. Quell'inseguimento era stato folle, però finalmente era finito. Laura e Karen a quel punto escono dalle loro macchine e si vanno incontro per cominciare di nuovo a insultarsi, spingersi e anche mettersi un po' le mani addosso. Eva intanto rimane in auto, abbastanza scioccata dalla situazione e sperando che sarebbe finito tutto il più in fretta possibile. Mentre Missy, guardando le sue due migliori amiche litigare così, decide di intervenire. Cioè le faceva proprio male vedere che quelle due persone con cui aveva passato praticamente tutta la sua vita si stavano comportando in quel modo. Quindi fa per aprire lo sportello della macchina per uscire e andare verso di loro a calmarle, ma appena apre lo sportello, Karen e Laura si fermano. Improvvisamente smettono di litigare. Proprio appena hanno sentito che Missy ha fatto così con lo sportello, si sono fermate. Ok, molto strano. Dopodiché si avvicinano verso la macchina in cui si trovava Missy e una di loro, Karen, la blocca dentro la macchina. Le blocca la fuga, si mette davanti alla portiera, mentre Laura si mette dall'altra parte, impedendole in qualsiasi modo di uscire. L'atteggiamento delle due era cambiato drasticamente e Missy questo lo nota subito. Poi subito dopo Karen si avvicina al volto di Missy e le dice qualcosa del tipo, guarda, sì, noi siamo arrabbiatissime, ma non tra di noi, siamo arrabbiatissime con te. Subito dopo la tirano fuori dall'auto, la strattonano e cominciano a farle del male. La sbattono contro il fianco della macchina e cominciano ad accusarla di essere andata a letto con i loro ragazzi. Le dicono di non aver mai creduto alle sue parole, si erano alleate per darle una lezione, erano convinte che lei aveva fatto loro quel torto. Missy ovviamente in quel momento cerca di difendersi in qualsiasi modo, continua a dire loro, guardate che non ho fatto niente, non lo farei mai, per favore smettetela, tutto questo non ha senso, siete le mie migliori amiche, basta. Ma loro non volevano ascoltare, le urlavano in faccia di continuo, non la facevano nemmeno parlare e ovviamente infierivano anche in maniera fisica, spintoni, botte. Missy subisce tutto ciò dalle sue migliori amiche. Ad un certo punto Karen afferra Missy e la spinge via dall'auto e la obbliga ad andare verso un sentiero che andava dentro la foresta, si addentrava verso la foresta. Più precisamente si mettono una davanti a Missy e una dietro, così da trascinarla, praticamente nella direzione in cui volevano. Tenete in conto sempre che Missy era davvero gracile, minuta, molto piccola, era alta forse neanche un metro e cinquanta, mentre le altre due erano decisamente più grosse, ma oddio erano normali, ma era proprio Missy ad essere minuta in confronto loro, ok? Quindi non fanno neanche fatica a trascinarla per il sentiero, figuratevi. Laura e Karen quindi spingono senza nessuna difficoltà, Missy sempre più all'interno della foresta. Nel frattempo Eva, che era rimasta in auto, aveva assistito alla scena, non sapeva cosa fare, quindi decide a un certo punto di fare la cosa più semplice, l'unica cosa che le viene in mente, ovvero uscire dalla macchina e seguire le sue amiche. In quel momento aveva molta paura, non aveva il coraggio di intervenire e rimase in disparte, cioè cominciò a seguirle ma senza farsi vedere. Intanto Laura e Karen, spingendo Missy sempre più dentro la foresta, arrivano in un punto specifico. Si fermano e Missy comincia a piangere in modo disperato, chiede pietà e chiede per favore di smetterla, di lasciarla andare. Si rannicchia su se stessa, Laura poi però le si avvicina, Missy alza lo sguardo e la sua amica le tira un pugno in faccia con tutta la sua forza. Karen poi si aggiunge subito dopo e comincia a prenderla a calci. Fanno tutto questo senza neanche un briciolo di pietà. E di nuovo Eva rimane lì, in disparte, senza fare nulla. Vede tutto ma non fa nulla, per paura. Una volta finito di picchiarla, Laura tira fuori un coltello e comincia a tagliare i capelli di Missy. Gesto questo, veramente terribile, perché sapevano le due, sia Laura che Karen, quanto i capelli fossero speciali per Missy. Ci teneva ad avere sempre i capelli a posto, li curava tantissimo. Non era una ragazza vanitosa, però quella era l'unica cosa a cui teneva veramente del suo aspetto. I capelli e loro, sapendolo perfettamente, decidono di tagliarglieli senza pietà, con un cavolo di coltello. Una volta commesso anche questo gesto, le due si fermano, guardano Missy per terra, che ormai era in una posizione fetale, a piangere in continuazione. E non contente, le bloccano le mani e la bocca e la portano lì vicino, dove c'era un ruscello. Il famoso ruscello. In tutto ciò Eva continua ad osservare, scioccata e senza riuscire a fare nulla. Comunque Karen trascina Missy verso la riva del ruscello e Laura fa una cosa veramente diabolica, ovvero va in acqua e inizia a giocare con l'acqua del ruscello. E gli dice, vieni Missy, vieni qui, senti com'è bella l'acqua. Usando un tono veramente minaccioso, come farebbe un bullo, però un bullo con intenzioni veramente terribili, che è proprio quello che aveva lei. A questo punto Karen spinge Missy fino all'interno del ruscello, ma la fa cadere male, la fa cadere di faccia sulla riva. In quel momento Missy era legata, l'avevano legata, e non ha potuto neanche attutire la caduta con le mani, è caduta di faccia sulla riva. Nello stesso momento in cui provare a alzarsi, Karen e Laura la afferrano, la trascinano dentro l'acqua, e nel frattempo Eva decide di tornare indietro. Decide di tornare alle auto, vedere se magari c'erano le chiavi lì per potersene andare e chiedere aiuto, insomma qualcosa del genere. Però torna alle auto e vede che erano chiuse, non c'erano le chiavi e non sarebbe potuta partire. Quindi decide di mettersi tra le due auto, seduta per terra, rannicchiata, a pensare a quello che stava accadendo. Era semplicemente terrorizzata, non aveva idea, era paralizzata, non sapeva cosa fare. E non poteva andarsene a piedi, vi ricordo, perché erano in una zona abbastanza remota, lontana comunque dalla città. Quindi decide di rimanere lì e aspettare che questo incubo finisse. Dopo un po' di tempo lì, tra quelle due macchine, Eva sente un urlo agghiacciante provenire dai boschi. E poco dopo, vede Laura e Karen tornare da quel sentiero, fradice ma felici. Ridevano, scherzavano, e Missy non era con loro. Poco prima del loro ritorno alle auto, infatti, l'avevano tenuta bloccata con la testa sott'acqua. Missy aveva provato a rialzarsi, stava annegando chiaramente, ma Karen la stava tenendo ferma dalla testa. Laura invece la stava tenendo dai piedi e Missy, pur provando a divincolarsi, non ci riuscì. Però per un secondo Karen perse la presa sulla testa di Missy e la povera ragazza riuscì a emergere, a mettere la testa fuori dall'acqua, fare un respiro e poi urlare fortissimo. Un urlo terrificante che ha emesso usando tutte le sue ultime forze. Quell'urlo durò solo un attimo, poi il silenzio. Quello fu l'ultimo atto di coraggio di Missy, l'ultima richiesta d'aiuto. Perché Karen, subito dopo, piombò di nuovo su di lei e le mise di nuovo la testa sott'acqua. Missy a quel punto cercò di lottare, ma le sue forze pian piano l'abbandonarono. E sentendo che le sue forze si stavano affievolendo, Karen e Laura hanno smesso di infierire. Sono uscite dall'acqua, ma non se ne sono andate. Anzi, hanno preso un tronco d'albero che si trovava lì vicino, un tronco che pesava più di 240 kg, e lo hanno posizionato sulla testa di Missy, che intanto era penso incosciente, o comunque quasi incosciente. Una volta posizionato il tronco, se ne sono andate, e Eva le ha viste ritornare dal sentiero ridendo bagnate fradice. Ed è così che perse davvero la vita a Missy. Dopo tutto ciò, Eva tornò a casa con una delle due ragazze, e accadde quello che già vi ho raccontato. Laura ha chiamato la madre di Missy, le ha chiesto se fosse in casa, sapendo benissimo che non era in casa, e ha inventato tutta quella storia della Camaro Blu e dei due ragazzi. Addirittura si è messa a cercare Missy, si è messa ad aiutare sua madre a cercarla. Tre giorni dopo la scomparsa, come già vi ho detto prima, trovano poi effettivamente il corpo di Missy, che era sepolto, anzi schiacciato, da quel tronco gigante dentro il ruscello. Ritrovato dagli escursionisti, tra l'altro. Sulla scena, però, gli agenti trovano dei mozziconi di sigaretta, delle bottiglie di birra, e una tuta da uomo. Oggetti che erano lì completamente a caso e non avevano nulla a che fare con la vicenda di Missy. Ma dato che Laura aveva inventato e raccontato la storia dei due ragazzi della Camaro Blu, gli agenti hanno pensato che veramente quegli oggetti potessero appartenere a quei due ragazzi. Hanno pensato che davvero erano loro i colpevoli. Ed è per questo, anche per questo, che per tre anni non sono riusciti a risolvere il caso. Hanno continuato a cercare questi ragazzi, questa Camaro Blu, senza nessun esito, senza trovare nessuno, senza trovare un colpevole, perché non esisteva. O almeno, non erano i colpevoli che pensavano loro. In tutto ciò, anche Karen aveva sostenuto la madre di Missy, le era stata vicino. Alcune fonti raccontano che addirittura Karen si fosse temporaneamente trasferita in casa di Missy, facendo finta di essere totalmente sconvolta per questa storia. E pare che abbia addirittura dormito nel letto di Missy, mangiato al tavolo, nel posto in cui si sedeva Missy, e tutte queste cose qui. Ma anche Laura fece la sua parte in questa recita a dir poco disgustosa. Laura, infatti, mandò una lettera di condoglianze a Irene, la madre di Missy, con una busta contenente 20 dollari. Poi entrambe andarono ovviamente al funerale, piangendo, disperandosi per la perdita della loro migliore amica. Questa farsa è andata avanti per tre anni. Una recita veramente, veramente disgustosa, non c'è altro modo per definirla. E hanno preso in giro tutti dall'inizio queste due ragazze. Ma quindi, come facciamo a sapere tutto questo? Com'è possibile che siano venuti fuori tutti questi retroscena? Beh, il merito è di Eva, il testimone oculare. Per quanto non fosse riuscita ad intervenire quel giorno, per quanto non fosse riuscita neanche a dire nulla per i tre anni successivi al delitto, dobbiamo comunque riconoscere che, alla fine, ha aiutato a chiudere il caso. Come vi ho detto, il caso è presto diventato freddo per via del fatto che non si riusciva a trovare questa Camaro Blu e questi ragazzi. Quindi, tre anni dopo, nel 1988, Eva, nonostante fosse stata minacciata di morte da Karen e Laura, è andata alla polizia e ha raccontato tutto. Tutto ciò che aveva visto. Non sappiamo perché ci abbia messo così tanto. Immagino che all'epoca fosse troppo giovane e le minacce di Karen e Laura l'avessero davvero terrorizzata. Sicuramente sarebbe potuta intervenire prima, però non c'è da darle una colpa, secondo me almeno, perché era stata minacciata di morte e, nonostante sapesse, ha preferito stare zitta per paura che le facessero la stessa cosa. Era molto giovane, quindi magari una persona adulta sarebbe riuscita a gestire meglio la situazione e a parlare in tempo. O comunque ad intervenire anche sulla scena. Ad ogni modo, dopo tre anni, finalmente capisce che le due non avrebbero potuto farle niente se lei avesse confessato, se avesse raccontato le sue testimonianze e quindi, appunto, racconta ogni minimo dettaglio alla polizia. Quindi le due vengono immediatamente arrestate e portate al processo. Tutta la città era sconvolta. Al processo si scoprono varie altre cose, come per esempio il movente. Perché cavolo si erano così tanto accanite e contromissi? È possibile che avessero voluto uccidrla solo ed esclusivamente per questa voce che girava in giro. Karen sosteneva che avesse visto Missy provarci col suo ragazzo e quindi per quello credesse alle voci. Ma in realtà si scoprì che sia Karen che Laura erano estremamente gelose di Missy e lo erano già da qualche tempo, già da qualche anno. Infatti erano state proprio loro a mettere in giro la voce secondo cui Missy era andata a letto con i fidanzati di alcune ragazze della scuola, già la prima volta, l'anno prima dell'omicidio. Ed erano state sempre loro a mettere di nuovo in giro la voce che questa volta era andata a letto con i loro ragazzi. Quindi quella lì era la scusa. Loro hanno inventato questa voce e quella lì sarebbe stata la scusa per fargliela pagare, per esternare tutto il loro odio verso di lei. Ovviamente Irene, la madre di Missy, era a dir poco sconvolta per tutto ciò che era successo. Aveva perso sua figlia in una maniera veramente brutale, in un modo che tra l'altro poteva essere tranquillamente evitato. E ovviamente le diede tremendamente fastidio il fatto di essere stata presa in giro dalle assassine di sua figlia. Le aveva fatte dormire a casa sua, le aveva fatte mangiare nella loro cucina, si era presa cura di loro, pensava che fossero veramente sue amiche e invece l'avevano uccisa. Comunque, dopo varie ricostruzioni e testimonianze, nel marzo del 1990, Karen Severson e Laura Doyle vengono giudicate colpevoli di omicidio di secondo grado e condannate da 15 anni al carcere a vita. Una condanna che sicuramente non ha dato molta giustizia al caso e a Missy. E questo perché appunto il giudice e la giuria hanno stabilito che fossero sì colpevoli di omicidio, ma non di primo grado, di secondo grado. Il che significa che la loro intenzione al momento dell'omicidio non era quella di ucciderla. E non so in che modo siano stati convinti da ciò, dato che le hanno piantato un cavolo di tronco di 240 kg addosso, sott'acqua, cioè mentre lei era sott'acqua, cosa si aspettavano? Ok, magari è vero che non volevano toglierle la vita, però con queste azioni, vabbè, non sono un giudice e non giudico nessuno. Questa qua è stata la condanna. Dai 15 anni al carcere a vita, in base a vari fattori come la buona condotta, eccetera, eccetera. Alla fine Karen viene rilasciata il 9 dicembre del 2011, dopo aver scontato precisamente 21 anni e mezzo. Mentre Laura viene rilasciata dal carcere nel dicembre del 2012, dopo averne scontati 22. Il caso però diventa popolare per via di uno scandalo, uno scandalo che c'entra con Karen. Dovete sapere infatti che Karen, una volta uscita, ha deciso di pubblicare un libro in cui racconta il suo personale punto di vista sulla storia, comprendendo anche il periodo del carcere. Stringe persino un accordo per la produzione di un film documentario e la famiglia della vittima, in particolare Irene, non ci vede più. Già non era riuscita ad accettare le condanne, secondo lei non adatte verso Laura e Karen. Ma questa per lei era troppo. Non voleva permettere che Karen avesse le possibilità di guadagnare sull'uccisione di sua figlia. Quindi nonostante Karen avesse promesso che tutto il ricavato delle sue opere sarebbero stati versati a enti di beneficenza contro il bullismo, Irene comunque ha deciso di citarla in giudizio. Nel 2015. Causa che vincerà e per questo motivo lo Stato della California approvò la legge Missy, Mrs. Law, che obbliga i colpevoli di certi crimini a chiedere il consenso alla famiglia delle vittime prima di poter pubblicare qualsiasi opera, ok? Quindi addirittura una legge ha preso il nome di Missy per via di questo scandalo. In tutto ciò comunque Eva, la testimone che ha raccontato tutto, non ha avuto alcuna ripercussione di tipo legale, probabilmente perché ha aiutato nella risoluzione del caso. Forse ha fatto qualche sorta di batteggiamento. Quindi alla fine le due assassine hanno scontato le loro pene, sono libere e vivono la loro vita tranquillamente. Irene tuttavia non riuscirà mai a avere vera giustizia perché non sono riuscito a trovare l'anno in cui è accaduto, ma sicuramente dopo il 2015, quando è stata approvata la legge Missy, è morta. Purtroppo ha perso la vita, quindi non ha mai avuto un briciolo di giustizia, secondo lei. Solo una magra consolazione con questa legge. Una storia veramente tristissima, sia mettendoci nei panni di Missy che mettendoci nei panni di Irene, sua madre. Purtroppo la ragazza ha avuto la sfortuna di trovare delle amiche davvero subdole, che l'hanno invidiata e l'hanno odiata fino alla fine. E lei non se lo sarebbe mai aspettato. Pensava veramente che quelle fossero sue amiche, le sue migliori amiche. Lo trovo assurdo perché non vi ho parlato di ragazze problematiche, con passati terribili come molte storie di cui parliamo. Anzi, erano normalissime, avevano 17 anni, frequentavano il liceo. Eppure, nonostante la loro apparente normalità, hanno fatto quello che hanno fatto. Per questo vi dicevo all'inizio del video che questa storia mi ha fatto riflettere sul fatto che non ci si può fidare veramente al 100% di nessuno. E non vorrei mettervi ansia, però veramente questa vicenda fa riflettere. Riflettete. Se ci sono cose un po' strane tra le vostre amicizie, allontanatevi, prendete le distanze. Se vedete un minimo di invidia nei vostri confronti, riconoscetelo, fatelo presente. E nel caso, allontanatevi, perché non è sano. Quindi nulla. Fatemi sapere cosa pensate di questo caso qui sotto nei commenti, vi aspetto lì, non vedo l'ora di leggere tutto ciò che avete da dire. Intanto, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che presto parleremo di alcuni casi freddi che sono rimasti irrisolti fino al 2023. E quindi risolti nel 2023. Avevo fatto questa cosa anche l'anno scorso, nel 2022, e vi era piaciuta tantissimo. Quindi andremo ad esplorare tre casi veramente agghiaccianti, risolti proprio quest'anno. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi, non dimenticate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao!